Bruno Arena, magnifico personaggio componente del duo comico I Fichi d'India, è per così dire tornato alla ribalta. Infatti ha fatto gli auguri di Buon Natale su Facebook in una pagina. Bruno Arena che vi ricordo fu colpito da un aneurisma cerebrale nell'anno 2013 a distanza di oramai tre anni, quasi quattro, da quel disturbo che purtroppo lo colpì e di cui fu protagonista suo malgrado, torna e fa gli auguri. Auguri speciali, auguri commoventi, auguri in cui ha voluto ringraziare sentitamente tutti i suoi ammiratori, soprattutto quelli che non lo hanno mai lasciato da solo, nemmeno un istante di tempo. Un periodo difficile per il buon Bruno Arena che purtroppo si è ritrovato, per così dire, catapultato in un male più grande di lui. Le persone che comunque circondano Bruno Arena si sono fatte sentire, hanno manifestato apertamente la loro vicinanza a questo personaggio così divertente, piacevole e mai smaccatamente volgare, ma anzi sempre in gamba e di conseguenza l'affetto e il calore dei suoi, per così dire, compagni di avventure, si è fatto ben sentire. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua, un saluto e a presto.